La squadra si chiama Usato Garantito Volley ed è composta da pallavoliste over 40 con un passato agonistico importante e un futuro carico di progetti. In occasione della giornata della donna hanno incontrato la consigliera di città metropolitana di Torino delegata alle politiche di parità Valentina Cera e il vice sindaco metropolitano Jacopo Suppo che hanno assicurato loro l'attenzione del nostro ente per l'impegno sociale e sportivo. La società ha sede a Dorbassano e gli atleti sono del territorio metropolitano e si stanno allenando per difendere il titolo di campionese europee ai prossimi Master Games del 2023 in Finlandia. Cercheremo di mantenere il titolo e il nostro obiettivo già da quest'anno è appunto andare in Finlandia e ci teniamo tantissimo perché comunque alla nostra età raggiungere un obiettivo del genere è piacevole perché comunque è difficile continuare comunque sempre essere allenate, avere la costanza e la voglia di comunque avere questo impegno continuando anche ad avere l'impegno familiare e quant'altro. Cosa diciamo alle nostre figlie, alle nostre ragazze che fanno un po' le divaniste e magari sono pigre? Lo sport aiuta? Lo sport aiuta e soprattutto aiuta a mantenersi giovani sicuramente perché quello che fai quando sei giovane e se continui non passerà mai la voglia di farlo. Città metropolitana vi aiuterà ad andare in Finlandia con il nostro logo sulla maglia. Per voi cosa significa? È importante perché comunque per noi è stata una sorpresa, non ce l'aspettavamo e quindi vi ringraziamo per questo grande evento che si spera appunto di raggiungere nel 2023. Abbiamo conosciuto delle atlete pallavoliste non più ragazzine che sono un modello di sport e di socialità. Città metropolitana vorrà aiutare questo esempio e anche altri immagino? Assolutamente sì, credo che sia dovere dell'istituzione sostenere esempi come questi, far vedere che insomma la vita di una donna può essere completa ad ogni età e quindi qualora si volesse fare sport lo si può fare a alti livelli come le nostre atlete che abbiamo incontrato oggi ci hanno dimostrato e quindi sosterremo questa e altre esperienze senza dubbio. Una giornata oggi, quella dell'8 marzo che però dura 365 giorni. Esattamente, l'8 marzo tutti i giorni. Come città metropolitana stiamo partecipando a varie iniziative tutte incentrate sulla cura dei diritti delle donne e su un cammino di parità per cercare di migliorare la società per tutte e tutti, uomini e donne insieme.